Parto. Salve a tutti, io sono Lorenzo Dogana e farò la mia presentazione su il book fotografico, nello specifico nel libro fotografico. A quale titolo, per prima cosa? Io non sono un esperto editore, sono un fotografo e insegno fotografia all'Istituto Italiano di Design, qua a Perugia. E nel corso degli anni ho sempre, è da quattro anni che insegno là, e nel corso degli anni ho sempre fatto vedere ai miei studenti i libri di fotografia, i grandi classici, e in occasione appunto di Umbria Libri per presentare il nostro istituto abbiamo pensato di far vedere quello, i libri dai quali i ragazzi si prendono ispirazione e che sono costretti a vedere, capire, interpretare e poi appunto un po' tutto il panorama, il panorama comunque che sta intorno al libro fotografico, che è un argomento specifico e che sicuramente offre tanti spunti di riflessione. e appunto c'è questo storico della fotografia Ralph Prince, un olandese, che dice che il fotolibro appunto è una forma autonoma d'arte, comparabile ad una scultura, una piste teatrale o un film. Difatti per lui le fotografie tradotte in inchiostro di stampa diventano un evento drammatico, chiamato il libro. E appunto c'è questa importanza nel definire il libro fotografico un'opera d'arte a sé. Difatti c'è tutta una tendenza contemporanea dei fotografi che, essendo cambiata molto la professione del fotografo negli ultimi anni, ha dovuto trovare nuove forme e il libro fotografico è una delle forme appunto che offrono un panorama più interessante anche perché appunto con tutta la crisi della fotografia era legata ai servizi sociali, quindi ai servizi di natura sociale, che poi andavano a finire nei grandi magazine, riviste internazionali, pensiamo agli anni d'oro, 60-70, appunto prima con l'avvento della televisione, poi con l'avvento del web è totalmente cambiato il panorama internazionale. E adesso appunto con l'arrivo del libro fotografico sicuramente c'è tutta una nuova fondata creativa che andiamo un po' a analizzare più nello specifico. E i fotografi hanno sempre voluto realizzare dei libri fotografici che appunto non è solo una raccolta del loro lavoro, ma appunto una vera e propria sfida artistica. E questo del libro fotografico è una storia che parte proprio dagli albori della fotografia. Il primo libro infatti è della metà dell'Ottocento. Il problema principale sono appunto sempre stati i costi di produzione elevati che molti fotografi non potevano permettersi di realizzarlo e trovare soprattutto le case editrici che avessero l'intenzione di fare questo investimento. Infatti un buon prodotto richiede sicuramente un bel formato, una carta prestigiosa, un'ottima qualità di stampa, essendo fotografie la resa deve essere ottimale, no? E poi pagare naturalmente i diritti al fotografo, a tutto il lavoro di impaginazione. Diciamo che il costo del libro fotografico sicuramente è molto alto. E il libro di fotografia è stato ora rivalorizzato e appunto non minacciato, questa è una parola chiave infatti, da l'editoria digitale. In questo qua lo dice appunto Giovanni Perison dell'Associazione Italiana Editori. Difatti andiamo un po' a analizzare come il libro è stato basato attraverso l'era del digitale. Caratteristiche fondamentali sono appunto l'originalità del progetto, la concettualizzazione, quindi tutto come viene strutturato proprio il progetto legato al libro, la materialità, quindi tutto quello che è proprio la carta e la qualità del libro fotografico, che è molto importante. E poi c'è tutto il discorso anche dell'editing, della sequenzialità, quindi come vengono appunto mostrate le immagini. E naturalmente il design, che deve essere sempre un bel prodotto, no? Un libro di fotografia e un contenuto. Ciao, grazie. Il libro fotografico e la rivoluzione digitale. Allora, per prima cosa la fotografia è diventata una pratica di massa. Infatti abbiamo visto tutti come in questi ultimi anni c'è stata una diffusione della fotografia mostruosa, proprio la fotografia che negli anni settanta aveva avuto un grande picco di fotoamatori, gente che si era appassionata alla macchina fotografica, che magari si era comprata la prima macchina fotografica e faceva le prime sperimentazioni. Poi negli anni 80-90 è andata un po' a calare questa passione, soprattutto negli anni 90, per riprendere alla metà degli anni zero in modo molto un'impennata di nuovo interesse. Questo nuovo interesse che sicuramente è arrivato grazie a il digitale. E questo digitale che appunto, partendo dalle pubblicità magari che si vedevano in giro, anche grandi marchi della moda, con modelli, con macchine appese al collo, sicuramente ha fatto sì che la fotografia diventasse una pratica di massa, una pratica dove c'è sempre più gente che oltre a realizzare fotografie si interessa anche di cultura fotografica. E appunto queste persone, questo pubblico è un pubblico esigente, che richiede anche, apprezza la bellezza anche del libro fotografico andando nello specifico. E quindi sicuramente è stato un input per aumentare sempre più il mercato. E sicuramente questa crescita di interesse ha portato anche a più canali di vendita. Difatti se fino a dieci anni fa trovare dei buoni libri di fotografia è una cosa abbastanza complicata. Infatti se andavamo magari dieci anni fa, se fossimo andati su una libreria di Perugia, avremmo trovato i grandi nomi classici, tipo Salgado, Steve McCurry. Però difficilmente avremmo trovato delle edizioni di case più ricercate. E questo qua, la diffusione appunto della fotografia e il maggiore interesse ha portato ad un mercato anche più grande del libro fotografico e quindi anche più offerta. Un canale privilegiato anche di vendita delle fotografie, sempre legato alla diffusione della fotografia degli ultimi anni, è tutte le mostre fotografiche. Adesso se ne organizzano migliaia, no? A pensare sempre solo dieci anni fa il numero di mostre fotografiche era molto più limitato in giro per tutta Italia, naturalmente più centro-nord. E anche di festival e mostre di fotografia, festival di fotografia dedicati. Qua in Umbria e qua intorno ne abbiamo anche di importanti, basta andare al Corton on the Move o in questi giorni inaugura l'Umbria World Festival a Foligno. Ci sono così tanti festival in giro che hanno sempre delle librerie specializzate, libri di fotografia e sono degli importanti canali di vendita. Poi naturalmente altri canali di vendita è tutto il web, quindi tutta la possibilità di reperire questi libri attraverso diversi canali. Quindi diciamo che un'altra cosa che è stata molto utile a una nuova diffusione del libro fotografico è anche la tecnologia digitale che ha abbassato i costi di produzione. Questo abbassamento dei costi di produzione ha portato a punto che non bisogna più stampare magari 10.000 coppie di un libro di fotografia, ma se ne possono stampare anche tirature limitate. E un'altra cosa molto diffusa tra i grandi editori è anche fare delle coedizioni a livello internazionale. Quindi per ridurre i costi spesso si fanno l'impianto delle illustrazioni comune a tutti come investimento e poi le sigle editoriali e i testi tradotti nelle diverse lingue. Quindi facendo così c'è un grande abbattimento dei costi e un libro può raggiungere delle grandi tirature. Poi c'è una internazionalizzazione del mercato attraverso queste coedizioni, attraverso il web, attraverso festival dedicati al libro fotografico, che anche quelli sono grandi canali di diffusione. I tre più importanti sono a Kassel, c'è un festival dedicato al libro di fotografia, poi c'è il premio che assegna Parifoto, e anche a Arla, dove c'è uno dei festival più storici, che anche là c'è un premio dedicato alla fotografia. E quindi questo qua permette di fare anche alte tirature dei libri. Poi c'è tutto il fenomeno che anche nell'intervento prima accennavano, le autoproduzioni, quindi il self-publishing. E questa qua è un'opportunità creativa inedita, soprattutto per il fotografo, perché il fotografo attraverso una autoproduzione può appunto raggiungere dei risultati molto interessanti. Ci sono dei casi, tipo per esempio questo qua, di Niccolò De Giorgi, che si chiama Iden Islam, poi se qualcuno vuole vedere ho portato il libro materiale, libri del genere sono i libri in poche tirature, che la prima edizione era stata fatta in 300 copie, che adesso ha raggiunto numeri di vendita di oltre 5.000 copie. e la cosa interessante è anche il mercato dei collezionisti, perché queste piccole tirature, appunto autoprodotte, il fotografo ha la possibilità di controllare tutto e come dicevamo appunto il fotografo ha l'interesse di curare il libro anche più della mostra fotografica delle volte, perché appunto c'è tutto il controllo del processo. Adesso siamo abituati a vedere le fotografie in tanti monitor differenti, che magari la stessa fotografia si vede su uno schermo di un telefono, su un tablet, su un computer, sempre in modo differente. Il libro per il fotografo è un risultato controllato e quindi lui sa come appunto viene il risultato finale e lo mostra al suo pubblico. E questo appunto permette una terza via appunto che va oltre l'editoria grande e è appunto una via autonoma, autogestita, che si pone appunto a metà fra libro e mostra. Il libro fotografico naturalmente come numeri parliamo di numeri piccoli, infatti ho trovato questo numero del 2015 che valeva l'un per cento della produzione editoriale italiana, 500 titoli l'anno. 500 titoli l'anno, praticamente i libri di cucina sono almeno mille, adesso saranno anche duemila negli anni e la cosa interessante è che comunque si vendono, quindi c'è un segno positivo nelle vendite. E appunto diciamo che questo nuovo interesse ha generato collezionisti di volumi rari disposti a spendere grandi cifre appunto per trovare soprattutto le prime edizioni. E' diffuso sempre di più l'interesse di collezionisti con grandi disponibilità economiche perché adesso andremo a vedere un po' i grandi classici, farò una panoramica anche dei grandi libri che hanno fatto la storia del libro fotografico che raggiungono cifre di varie migliaia d'euro. E sicuramente come dicevamo ci sono questi festival che hanno importanti premi che quindi anche i fotografi e le case editrici sono anche molto motivati a partecipare a queste occasioni di visibilità. E poi naturalmente c'è tutto il mondo legato al web, quindi blog, spazi di discussione dedicati al fotolibro. E più ancora degli altri illustrati, per esempio i libri per i bambini, il libro di fotografia sembra aver dimostrato di possedere una ragione d'esistenza. Anche perché è difficilmente rimpiazzabile, non teme la concorrenza di Kindle o edizioni di publishing, perché appunto la bellezza della carta, il riflesso della luce sulla carta, sicuramente non teme internet il libro fotografico, perché a differenza della grande editoria classica, sicuramente il libro fotografico è un prodotto che ha una sua ragione d'esistenza. E appunto è come i libri per i bambini, perché anche quello è un altro canale che io ci sono entrato, perché appunto con i miei bambini è sicuramente avere in mano il libro è tutto un altro discorso. Parliamo un po' delle case editrici più interessanti negli ultimi anni. Naturalmente ci sono i grandi classici nazionali e internazionali, per esempio che qua non ho riportato, ho portato dei casi editoriali, però per esempio qua in Italia non si può non citare Contrasto, che appunto è un'agenzia che ha l'esclusiva per i fotografi Magnum e è una delle più grandi case editrici fotografiche, oppure a livello internazionale Aperture o Stidal. Sono tutte grandi case editrici che sicuramente hanno fatto la storia del fotolibro. Qua io vado a parlare di realtà più piccole, per esempio la Mac, che è una case editrice indipendente che è specializzata in fotografia e arte. È stata fondata da Michael Mack che lavorava appunto alla Stidal in Germania, a Berlino e appunto lui lavora con artisti, scrittori, curatori, situazioni culturali. Fa delle edizioni molto limitate e ne fa 20-25 all'anno e sono edizioni che sono sono estremamente curate. Questa è una delle caratteristiche fondamentali appunto nel design, curate nell'impaginazione, nella scelta dei materiali, nella scelta anche degli autori. quindi non fa solo i libri di Salgado, che magari se ne vendono 40.000 copie, ma appunto anche autori emergenti e grandi classici. Poi per esempio c'è anche sempre a Londra la Trolley Books, appunto è stata fondata nel 2001, anche questa è una casa editrice indipendente fondata da un italiano, Gigi Giannozzi, e anche questa è specializzata in fotografia. Purtroppo lui è morto recentemente, però ha dedicato un... ha fatto una collana molto interessante. E questa è un'altra realtà, sempre... arrivederci... sempre di un self-publish, Be Happy, che appunto è un'organizzazione fondata sempre da un italiano, Bruno Cascella, nel 2010, e è sempre dedicata a diffondere la fotografia contemporanea. E... anche qua che sono delle pubblicazioni molto interessanti, soprattutto dedicate al self-publishing, anche online, e tutto questo settore della editoria appunto indipendente. Perché per esempio a differenza di qualche romanziere, no? Che si auto-pubblica i propri libri per diciamo velletà magari artistiche o per soddisfare un proprio bisogno di fare un libro, solitamente per... a livello fotografico è tutto un altro discorso, perché è un'opera d'arte a sé stante. questa realtà invece postcard è una realtà italiana, l'arte edizione è fondata dal fotografo Claudio Corrivetti e appunto è molto attenta ai temi sociali e ai nuovi ai nuovi talenti. Ogni libro è curato con la stessa precisione e dedica sempre molta attenzione alla qualità del progetto. Poi c'è questo caso, il caso Rokhoff che appunto è l'editrice di questo ragazzo che dicevo prima De Giorgi, Nicola De Giorgi che lui ha fatto questo libro poi ha fondato la propria casa editrice a Trento e fa dei progetti molto piccoli tirature molto limitate con un grande successo per esempio questo libro che ho fatto vedere ha vinto il premio ai tre principali festival di fotografia a livello europeo. Un'altra piccola realtà è questa Cesura Publish una casa editrice indipendente di libri fotografici con base a Milano sempre fondata nel 2010 e appunto si basa appunto sull'autopromozione del gruppo questo per esempio è un altro caso molto interessante sono dei giovani fotografi che si sono uniti e hanno fatto la loro infatti Cesura oltre che Publish è anche un gruppo un collettivo fotografico che è specializzato in fotografia sociale e quindi fa fotogiornalismo e appunto ha fondato la sua casa editrice per pubblicare i lavori che produce e nel tempo si è allargata anche ad altri progetti una cosa molto importante a partire dal nuovo millennio è stata anche l'attenzione dedicata ai libri sui libri fotografici quindi ci sono stati vari personaggi varie ricerche storiche stilistiche che appunto erano mirate a creare la storia del libro fotografico e quindi a raccogliere e categorizzare le varie le varie pubblicazioni a partire da quelle degli inizi a oggi e si sono i tre libri più importanti sono appunto questo che è stato fatto nel 2001 da Andrew Root che è The Book of 101 Books praticamente lui ha selezionato 101 libri che hanno fatto la storia della fotografia nel novecento poi un altro libro pubblicato nel 2004 da un gruppo di esperti messi insieme dall'Hasselblad Center in Svezia è stato The Open Book e questa è una versione più aggiornata si parte appunto da 1860 come 68 mi sembra come partenza e affronta appunto tutti i temi tutti i libri più importanti e poi diciamo che il punto della situazione più completo è stato appunto questa triologia questi tre volumi usciti nel 2004 2006 e 2014 a cura di Martin Parr fotografo magnum fotografo con una grande passione per i libri fotografici e Jerry Badger che è uno storico di fotografia e appunto loro hanno fatto The Photo Book a History volume 1 2 3 e quasi proprio adesso sono diventati un po' la Bibbia per chi studia fotografia e si occupa appunto di cultura fotografica e anche per i i vari appassionati che vogliono fare le loro librerie fotografiche sicuramente è una guida completa a livello mondiale hanno fatto un'edizione anche successiva per i libri in Asia e è considerata un po' il riferimento per chi colleziona libri adesso la storia del fotolibro quindi è da sempre un intreccio tra industria culturale ed esperimenti d'avanguardia andiamo un po' a fare una breve storia del fotolibro dirò poche cose per ogni per ogni libro questo qua è stato il primo libro fotografico della storia The Pencil of Nature di Talbot Talbot insieme a Daguerre si contendeva il primato per chi avesse inventato la fotografia e lui all'affinamento Daguerre infatti è il più famoso lui a Londra in Inghilterra stava lavorando appunto a un altro sistema per fare fotografie appunto utilizzando il negativo invece che le lastre fotografiche come Daguerre e nel 1844 pubblica a Londra questo la matita della natura quindi sono poche fotografie 16 fotografie dove appunto può essere può essere questo è stato il primo libro fotografico e poi ciao poi nel libro di di Martin Parr appunto a livello italiano vengono elencati pochi libri c'è una produzione anche successiva di libri di fotografia e per gli italiani appunto viene citato questo fotodinamismo futurista di Bragaglia che è stato è uscito nel 1913 e appunto su questa quella prima edizione sono 16 fotografie 48 pagine e appunto si tratta di temi futuristici quindi con movimenti dell'immagine poi sempre Parr e Badger citano questo libro della propaganda fascista quindi la colonizzazione del latifondo siciliano uscito nel 40 infatti è edito dal ministero dell'agricoltura che appunto ci sono delle immagini che parlano di in toni naturalmente trionfalistici del contado siciliano allora un altro altri libri che hanno fatto la storia della fotografia sicuramente c'è Image la subetta di Cartier-Bresson che appunto sarebbe il momento decisivo e quindi questo qua che ha una bellissima copertina disegnata da Matisse è un libro che è uscito nel 52 a Parigi e anche questo è da annoverare tra i libri cult questo poi The Family Home Men è un libro di Steichen che era un lussemborghese che ha lavorato in America per tanti anni è passato dalla fotografia pittorialista alla street photography alla fine è diventato il direttore del MoMA di New York che ha lavorato per due anni su un grandissimo progetto fotografico The Family Home Men e aveva questo desiderio di coinvolgere più di 200 fotografi in giro per tutto il mondo per appunto affermare questa definizione che l'uomo è una famiglia dell'uomo e quindi per delineare questa famiglia dell'uomo ci sono scene di vita prese soprattutto per il valore enfatico emozionale e sono 503 fotografie racchiose in 192 pagine e questo qua è stato anche un caso editoriale perché sono state vendute due milioni e mezzo di copie di questo libro in Italia poi abbiamo questo libro storico del 55 un paese che è una ricerca che Cesare Zavattini ha fatto in un paese dell'Emilia insieme al fotografo Paul Strand ha fatto queste fotografie storiche che fanno di questo libro un libro fondamentale della storia della fotografia italiana William Klein New York anche qua è stato un punto di riferimento per tanti fotografi per avere una visione completamente diversa nel 56 di una città fotografata da tutti come New York il suo punto di vista è stato veramente originale e è stato un riferimento a lungo anche questo The Americans di Robert Frank uscito nel 58 con una prefazione di Jack Kerouac è stato un libro che è stato un riferimento per aver cambiato anche gli stili della fotografia a livello artistico c'è questo libro di Adrasha 26 Gasoline Station che è uscito appunto nel 63 e anche qua è un libro che sicuramente questi sono tutti i libri chiave della storia della fotografia i travestiti di Lisetta Carmi questa qua è una ricerca fatta tra i travestiti di Via del Campo a Genova negli anni 70 e Lisetta Carmi non riusciva a trovare un editore perché con questo tema così scottante negli anni 70 infatti dice che poi una volta che l'ha trovato veniva venduto nelle librerie sotto banco perché non veniva mostrato e è diventato un libro abbastanza introvabile con perché è citato comunque anche nel libro di Martin Parr e Badger e quindi con dei costi molto elevati questo è un altro libro storico di Kudelka che ha fatto una sua ricerca sui gypsies in Roma e zingari così come venivano chiamati prima di questa definizione nuova Roma edito nel 75 a Parigi poi c'è appunto edito da Steidard questo libro di Eggleston che è anche questo un libro molto importante che ha influenzato un'intera generazione di fotografi tra cui anche il nostro Luigi Ghirri questa edizione per esempio di Luigi Ghirri del suo fotografo italiano più conosciuto nel mondo è diventata introvabile questa edizione edita da punto e virgola raggiunge cifre che superano il migliaio d'euro adesso è stata rifatta una nuova edizione da Mac edizioni quella casa editrice di Londra che abbiamo visto prima e sicuramente è un best seller The Ballad of Sexual Dependency di Nan Goldin anche qua per la fotografia narrativa è stato un riferimento e poi vi voglio parlare di questo libro di Vivian Mayer che è uscito questo qua è stato un caso editoriale perché ha un caso per la fotografia in generale praticamente un agente immobiliare ha comprato su un'asta di quelle dei garage che adesso ci sono tanti programmi dedicati ha comprato un lotto per 360 dollari e era pieno di fotografie negativi di questa signora Vivian Mayer sconosciuta e più non sapeva nessuno chi fosse perché lei per tanti anni ha fatto la governante a Chicago su una casa e aveva questa passione della fotografia che ha coltivato negli anni ma sempre in segreto e ha creato un corpus di fotografie molto consistente di una qualità altissima e è stato un caso editoriale perché una volta che hanno riconosciuto la valenza di queste immagini hanno fatto mostre che hanno girato tutto il mondo hanno pubblicato dei libri che hanno venduto milioni di copie e è diventato appunto uno degli ultimi che in dieci anni si è creato un mito praticamente questa invece è un progetto di una fotografa spagnola Cristina De Middel che si chiama Afronauts praticamente lei è un progetto di vecchie stazioni spaziali in giro per l'Africa che sperimentavano facevano esperimenti spaziali e ha fotografato africani appunto con questo divisa da cosmonauti che lei chiama Afronauti e nel 2012 lei ha pubblicato mille copie del suo libro in vendita 28 euro e adesso ha vinto dei premi internazionali e questo libro adesso è introvabile o meglio lo trovi su ebay ma la prima edizione supera i mille euro come costi questo qua è il vincitore del Paris Photo 2017 un libro di una fotografa indiana da Yanita Singh che appunto lei ha pensato un museo però fatto a libro e quindi ha pubblicato appunto varie ogni ogni libro è una mostra sono appunto dieci libri che sono contenuti in questo cofanetto edito da Steidel e appunto questo qua costituiscono un museo questi libretti Nicolò De Giorgi De Giorgi che è questo appunto libro che vi ho fatto vedere e questo interesse questo per vedere anche un po' panorama interno naturalmente ci sono tante omissioni ho dovuto fare una scelta adesso chiuderò anche per mandarvi a pranzo e comunque nell'ottobre del 2017 la Tate Gallery ha annunciato l'acquisizione di una notevole collezione di libri fotografici questo appunto per confermare questo nuovo interesse per il libro fotografico e sicuramente ora c'è maggiore consapevolezza e cultura dell'oggetto libro quindi sicuramente saranno la direzione è quella di creare delle edizioni sempre più curate ed esclusive c'è Gerardo Steidel appunto questo editore che lui dice che non descriverei i miei libri come prodotti industriali sono multipli un multiplo è un'idea che un artista sviluppa ma una persona in un modo tecnico finisce per fare appunto c'è questa idea di artigianalità di produzione comunque dedicata e con tanta attenzione per concludere ho portato qualche lavoro degli studenti dell'istituto per far vedere come sono stati ispirati da questi libri che abbiamo trattato per esempio questo qua è una studentessa ora del terzo anno che loro nel secondo anno i ragazzi devono presentare dei progetti fotografici e lei ha fatto un progetto su come le ragazze chiedeva delle ragazze quello che odiavano di fotografare la parte del corpo che odiavano di più è stato interessante perché in questo lavoro per certi versi terapeutico perché alla fine si è accorta che erano sempre le stesse cose che alla fine ha fatto questo lavoro molto interessante lavorando anche manualmente facendo gli origami e intervistando ragazze qua ha fatto un collage c'è un'altra ragazza che invece si è rifatta la fotografia narrativa bianca santeroni che qua lei ha una famiglia in giro per tutto il mondo e ha fatto queste fotografie a casa sua per far vedere appunto camere vuote sono molto scure si vedono meglio nella realtà e appunto sono delle immagini molto interessanti perché lei è andata anche qua ad auto osservarsi è anche difficile per un ragazzo avere una visione diciamo critica della sua realtà però si è messa in gioco ha mostrato ha cercato di raccontare quello che vive e poi ci sono questa ragazza invece Marianna Poggioni ha lavorato con il collage sempre sulle fobie quindi creando degli effetti abbastanza pop no? e lavorando appunto con il collage è andato a analizzare le fobie più particolari l'altro ragazzo invece ha lavorato più sul bianco e nero e quindi fotografie più suggestive diciamo che i ragazzi prendono sempre spunto da questi libri per i loro progetti vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.